Un milione e mezzo di litri d'acqua sono, occhio e croce, tre appartamenti da 130 metri quadrati, uno sopra l'altro, pieni d'acqua. Questo è quanto avrebbe consumato in sei mesi una vedova di 92 anni che vive da sola e che per tutto il 2014 aveva consumato appena 30 metri cubi di acqua. Morale della favola, a fine anno due bollette astronomiche per un totale di 5.675 euro. Chiaramente siamo di fronte a un consumo anomalo in una via, quella dove risiede la 92enne, già da diverso tempo martoriata da continue perdite a monte dei contatori, che come dice il signor Tamburini, genero della malcapitata anziana, oltre che a causare colpi d'ariete alle condotte private a valle del contatore, sono anche uno spreco d'acqua pubblica e un costo per l'intera collettività. Quello che si domanda, il genero, è il perché del ritardo da parte di Aset nel controllare le perdite, dato che il contatore è dotato di telecontrollo, uno strumento che serve alla telelettura dei contatori. Andando giù lungo questa strada, vediamo che le perdite sono dappertutto, in corrispondenza di ogni abitazione, noi abbiamo perdite continue, probabilmente Aset sa da sola con il telecontrollo capire quando ci sono queste perdite, interviene anche in autonomia. A volte io avevo segnalato la perdita e mi hanno detto, lo sappiamo già, infatti il giorno dopo sono intervenuti, qui andava via l'acqua e sono intervenuti. Quindi gli interventi li fanno, il problema è che non si risolve il danno 20-30 volte lungo questa via. C'è un problema di acqua pubblica, sprecata, ma tengo presente che questi costi vanno a carico dei cittadini, perché vengono poi portati a lato come costi operativi e vengono reclamati nelle tariffe. E questo è un fatto rilevante, perché le tariffe in 5 anni sono aumentate del 27%. Quindi c'è l'aspetto pubblico e l'aspetto dei privati. Il telecontrollo consente di verificare le perdite sia per il pubblico che per il privato. Inoltre, rileva il signor Tamburini, a Fano esiste rispetto alla provincia una disparità di tariffazione per gli utenti in questi casi. A Pesaro vengo trattato meglio, ho una tariffa applicata, la tariffa base, mentre se sono a Fano perdo di più. In provincia è l'assurdo, ci sono tre possibilità, tre trattamenti diversi e questo è assurdo. La soluzione per rimediare al tutto è di unificare i trattamenti in provincia. Abolire questo fondo, avere un trattamento unico provinciale, avere una tariffa sulle perdite a un prezzo basso, perché così si incentivano i gestori a segnalare ai cittadini in modo che possano sistemare le loro perdite. Non si possono fare gli utili sulle perdite degli utenti.